Io provo la stessa emozione di Antonio Sarti. Non so se lui è favorito perché gioca in casa. Non lo so. Certamente tutti e due, Antonio ed io, siamo coinvolti in un'atmosfera particolare, unica, che non è solo quella della 83esima adunata nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, ma è l'emozione dell'accoglienza, caro Presidente, che è vero che noi sapevamo essere così, ma non così forte. Ed è un qualcosa che si riesce a recepire da Chito, perché è spontanea, e genuina e forte. Forte com'è la gente di questa provincia. Io dicevo in occasione della consegna della cittadinanza onoraria della città di Bergamo all'Associazione Nazionale Alpini, che Bergamo, la sezione di Bergamo, gli alpini bergamaschi, nel contesto associativo sono sempre stati per noi di grande esempio. E allora vivendo questa giornata e questo clima che non è ancora esploso nella pienezza della adunata, si capisce perché voi bergamaschi siete fatti così. Ha ragione il Presidente Sarti, siamo scontrosi, siamo chiusi, siamo gente particolare, ma quanto cuore, quanta disponibilità, quanta partecipazione c'è in questa gente, credetemi non lo dico per fare un complimento, lo dico perché lo sento. E queste emozioni, caro Presidente, sono più commozioni che ci porteremo sicuramente appresso. E mi creda, e credetemi, anche per chi vi parla, è difficile esprimersi. Oggi abbiamo vissuto tre momenti importanti. Stamattina abbiamo salutato non solo con la preghiera, Don Gnocchi. Poi siamo stati adesso a trovare i militari, gli alpini, le loro attrezzature, i loro equipaggiamenti. Oggi ancora siamo venuti qui in provincia. stasera ci sarà l'arrivo della bandiera di guerra ed è una cerimonia importante, come importante è stata stamattina l'alza bandiera e la resa degli onori ai caduti. E quindi essere coinvolti così si rimane colpiti. Mi trovo anche in difficoltà, Presidente, perché vede anche io appartengo a una terra di alpini e appartengo anche a una famiglia di tradizione alpini. Però sento questa adunata marcata in un modo speciale, con un timbro particolare che non ho mai provato così da vicino.